Una campagna di sterilizzazione effettuata dai medici veterinari dell'ASPA nei confronti dei gatti randaggi è tuttora in corso nei locali dell'ex mattatoio comunale di Sciacca. Un'iniziativa che scaturisce dai volontari di Balzò, associazione animalista che ha recentemente messo a disposizione la necessaria strumentazione per attrezzare l'ambulatorio comunale per la sterilizzazione delle colonie feline, una cosa senza precedenti da queste parti. Si è parlato sempre di cani randaggi ma si è tralasciato che a Sciacca ci sono tantissimi gatti randaggi, il centro storico è pieno e grazie all'associazione Balzò, soprattutto per la volontà caparbia di Adriana Montalbano che è la presidente dell'associazione Balzò sezione Sciacca, ha richiesto tramite l'associazione Balzò Banco Italiano Zoologico Nazionale la donazione di un kit di strumentazione mediche che ha donato al comune di Sciacca. Quindi grazie a questa operazione effettuata si può iniziare con la sterilizzazione dei gatti e proprio in questo momento, grazie al veterinario dottor Costa, stiamo iniziando le sterilizzazioni di alcuni dei randaggi. Quante sterilizzazioni si potranno fare con questa operazione di Balzò? Si spera il più possibile, a tal proposito gli obiettivi si possono raggiungere soltanto grazie sia alla partecipazione della collaborazione, ringraziamo il comune per aver abbracciato questa iniziativa. Queste sterilizzazioni sono totalmente gratuite, quindi precisiamo questo. Il nostro è un'attività ovviamente di volontariato che facciamo con tanta passione. Ma Balzò, che a Sciacca è preseduta da Adriana Montalbano, ha anche lo scopo di aiutare attraverso la fornitura di cibo e antiparassitari tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno difficoltà a mantenere il proprio animale. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Balzò è un'associazione che aiuta i padroni in difficoltà a tenere un animale un dispendio economico. Balzò è proprio lì che interviene, aiutando le persone in difficoltà. Quanti gatti ha lei? Io ne avevo tantissimi, tutti i randaggi, perché poi abitando in campagna c'è il passaparola anche tra i gatti, quindi sono arrivata anche a 9-22. Passaparola tra i gatti è bellissima. Infatti, passaparola tra i gatti. Però voglio precisare che la sterilizzazione non è un atto disumano, non è una crudeltà, ma tendiamo noi a umanizzare l'animale. Cosa sbagliatissima che facciamo in tanti. La sterilizzazione è un atto di responsabilità e di onestà nei confronti del nostro animale. Come si chiama il suo gatto? Questo è pelosino, dato il nome da mia cugina piccola perché ha il pelo così morbido, nonostante sia un randaggio.